Siamo riuniti in questi giorni i Vescovi delle aree interne per abbozzare una pastorale che risponda alle esigenze poste dai territori soggetti a un decremento progressivo della popolazione. Papa Francesco ha inviato loro un messaggio, non lasciatevi paralizzare dalle difficoltà ma mettetevi sempre in cammino e disponibili agli altri. Sentiamo. Non stancatevi di testimoniare alle persone affidate alla vostra cura episcopale, l'amore è che sperimentate nell'incontro con Gesù. Lo scrive Papa Francesco in un messaggio inviato a Monsignor Felicia Crocca, arcivescovo di Benevento, in occasione della riunione dei Vescovi delle Diocesi delle zone interne per affrontare da un punto di vista pastorale le sfide emergenti della società. Papa Francesco invita i Vescovi ad avere uno sguardo preferenziale alle situazioni più disagevoli e a quanti vivono in condizioni precarie. Siete presenza consolante, raccomanda il Santo Padre, soprattutto dove è maggiore il disagio, coinvolgendo i sacerdoti, le persone consacrate e i fedeli laici nei vostri progetti pastorali. Per Papa Francesco è necessario che le parrocchie e tutte le realtà ecclesiali diventino sempre più palestre di vita cristiana, scuole di servizio al prossimo, specialmente i bisognosi, che attendono concreti gesti di solidarietà. Non lasciatevi paralizzare dalle difficoltà, dice, ma mettetevi sempre in cammino, in movimento, sempre aperti e disponibili agli altri. Il nostro tempo, aggiunge il Santo Padre, è caratterizzato da individualismo e indifferenza che determinano solitudini e lo scarto di tante esistenze. La risposta cristiana non sta nella rassegnata constatazione della povertà valoriale di oggi o nel nostalgico rimpianto del passato, ma nella carità, chi è animata dalla speranza sa guardare con tenerezza l'oggi e con umiltà rendere nuove tutte le cose. L'arcivescovo di Benevento, dando inizio all'incontro dei vescovi da lui stesso promosso al Centro della Pace di Benevento, ha rimarcato come la nostra provenienza geografica dal Piemonte alla Sicilia dice di per sé che è la questione trasversale a tutto il paese. L'obiettivo, secondo Monsignor Accrocca, è abbozzare un'idea di pastorale capace di rispondere alle esigenze poste da questi territori soggetti a un decremento progressivo della popolazione. Un incontro di natura prettamente pastorale che segnala però anche un problema di natura politica, perché la questione non può continuare a rimanere marginalizzata nell'agenda del Governo.